L'incidente mortale questa sera, martedì 15 gennaio, intorno alle 21, sulla strada provinciale 78 che collega Vessinier a Borgomasino. Due vetture, un Audi 3, un Fiat Doblò, si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato molto violento. L'Audi ha terminato la sua corsa nel fosso che costeggia la carreggiata, mentre il Doblò, dall'urto, è stato sbalzato giù dalla riva tra gli alberi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea Castellamonte, la Croce Blu e i carabinieri. Il bilancio è di un 37enne deceduto e di un 30enne trasportato all'ospedale CTO di Torino in gravi condizioni. Grazie per la visione!